rispetto al testo convenuto, questo determinerebbe un ritorno in tutti i consigli comunali con il testo eventualmente modificato da un solo consiglio. Quindi è un'operazione già di per sé abbastanza complicata, quella di arrivare, abbiamo dei tempi abbastanza stretti, perché ci siamo dati come obiettivo in giunta, d'accordo con i tecnici, quello di arrivare, di indicare la decorrenza della nuova convenzione dal primo di aprile prossimo. Quindi, come probabilmente ben saprete, perché immagino poi che i sindaci abbiano parlato nei loro rispettivi comuni, abbiamo un calendario abbastanza fitto rispetto alla data dei consigli comunali e alla data del Consiglio dell'Unione, che sarà l'ultimo consiglio che recepirà tutte le delibere dei consigli. In modo particolare, per noi, come consigli comunali, è determinante il consiglio comunale di Savignano, perché essendo che è il comune che subentra, da lì, dal momento in cui il comune di Savignano farà il proprio consiglio, partiranno tutti gli altri in una sequenza piuttosto, come dire, incalzante. Quindi è importante che condividiamo un testo che poi possa essere portato alla discussione nell'ambito dei singoli comuni, ma che sia poi portato in delibera quel testo che non viene più modificato, altrimenti il percorso si complica e diventa più lungo. Si può fare di tutto, non è che sia così, però era per darvi l'idea delle tappe che ci saremmo dati. Poi, se non si inizia il primo di aprile, ma si inizia il primo di maggio, sappiamo che non è un disastro. È vero però che se dobbiamo, anche rispetto alle assunzioni, procedere in modo incalzante, abbiamo bisogno, come diceva prima il dottor Canossi, che questa convenzione venga approvata per poter partire nel più breve tempo possibile, anche con il secondo step delle assunzioni. Chiusa parentesi, rispetto al tema della durata. Esprimo una mia opinione, perché, appunto come diceva prima il sindaco di Vignola, non avevamo approfondito questo tema in giunta rispetto al tema della durata. Penso anch'io che sia importante la riflessione che è stata fatta rispetto ad indicare un termine numerico, perché questo tema ha determinato veramente problemi interpretativi che hanno rallentato notevolmente la discussione, il confronto che si era aperto in giunta. Rispetto al tema dei 5 e dei 10 anni, allora ragiono un po' a voce alta, in realtà non è che ci siamo fatti ancora, come dicevo prima, un'idea precisa rispetto a questo tema, perché non abbiamo avuto proprio modo e occasione di approfondirlo. I 10 anni, se ho capito bene, riguardano la durata minima di un'unione di comuni. C'è un'unione di comuni, dice la legge regionale, è a tempo indeterminato e comunque non può essere inferiore ai 10 anni. Poi guardo, la professoressa Pesce, il dottor Canossi, perché magari dico anche delle stupidaggini, quindi mi correggerete senza problemi. Quindi riguarda la durata dell'unione. La convenzione, o le convenzioni, in questo caso la convenzione, ha una durata che non deve essere inferiore ai 5 anni. Quindi noi abbiamo, va bene così, ho detto giusto? Quindi noi abbiamo sostanzialmente due possibilità. O legare il tempo alla convenzione, o legarlo invece al tema della durata dell'unione. Qui non è un problema prettamente tecnico, almeno io non lo ritengo tale. Diventa un tema anche di carattere politico, no? Cioè quanto vogliamo investire sul tema corpo unico di polizia municipale? Vogliamo dire che per noi il corpo unico di polizia municipale è importante? Quanto è importante l'unione? Quindi lo leghiamo ai 10 anni come minimo, come diceva il consigliere Smeraldi. Vogliamo invece dire che la convenzione può essere rivista, a parte che penso possa essere comunque prevista una proroga, no? Cioè i 5 anni prorogabili, cioè come si fa solitamente le convenzioni. Vogliamo invece, come diceva il sindaco Pelloni, legarla al tema della durata amministrativa, della durata standard, di una tornata. Però ecco, infatti ci arrivavo, c'è questo tema un po' della disomogeneità dei nostri comuni, che fanno parte dell'unione, rispetto al momento elettorale, per cui siamo tutti un po' sfasati, ecco, passatemi questo termine. Quindi i 5 anni magari sono coordinati alla durata di un'amministrazione, magari di un'altra no. Dico anche, esprimendo ovviamente un'opinione del tutto personale, che stiamo parlando di un servizio, qualcuno lo ricordava, ma va da sé, di un servizio particolarmente importante, particolarmente delicato, che è quello della sicurezza e dell'organizzazione, della modalità appunto di gestione del corpo unico, che ha bisogno, proprio per un tema di assunzioni, per un tema di organizzazione, per tutto quello che volete, di una certa stabilità. Questa, ripeto, è una mia opinione personale, insomma, non stiamo parlando di un servizio che può essere, è un servizio qualificato, altamente qualificato, quello che vorremmo fosse, credo su questo siamo tutti d'accordo, il discorso del corpo unico di Polizia Municipale, quindi della sicurezza dei nostri territori. Per cui credo che questo possa essere un elemento di riflessione, rispetto ai 10 piuttosto che ai 5. la non congruenza delle durate delle amministrazioni e la particolare caratteristica di questo tipo di convenzione, di questo tipo di servizio, che ha sicuramente bisogno di una certa continuità. Devo anche dire che, o al di là di queste riflessioni, che mi porterebbero ad essere più propensa per i 10 anni che per i 5 anni, sono anche molto laica, cioè non vedo francamente moltissima, come dire, non ne farei una questione di vita o di morte, 5 o 10, spero di essere stata chiara. Riflettiamoci, e con molta tranquillità, per quanto mi riguarda, da 5 o 10, ha chiaramente ognuna di queste scelte, insomma, ha il suo aspetto così peculiare, e ripeto, forse più, anzi, senza forse, è una valutazione più politica che prettamente tecnica, sempre che i tecnici ci confermino che ci può stare tecnicamente, giuridicamente, sia l'una che l'altra, insomma. Provo a fare una proposta, visto che mi sono stati presentati questi tre emendamenti che vi sono stati letti, visto che dobbiamo cercare di avere un percorso comune, cercare anche di agevolarlo con tutti i comuni, e sentito anche quello che ha detto il sindaco Franceschino, quello che ha detto il sindaco Moratori e Pelloni, sul fatto che non si tratta più semplicemente della Convenzione, quindi di una priorità propria della Giunta, ma ci potrebbe anche essere, anzi, c'è un tema anche squisitamente politico sul discorso della durata che diventa veramente un vincolo politico, visto che altri consiglieri avevano, per esempio, sollevato, mi erano arrivate delle mail, per esempio, sull'articolo 14, abbiamo anche il problema dell'articolo 14 nel caso ci volessimo separare, non si riesce bene a capire come si può fare, il discorso, il fatto di aver introdotto un tempo può essere comunque un momento dove ci può essere, dove si può trovare quella soluzione che diversamente non riusciamo a trovare visto le diverse configurazioni politiche nei vari comuni. Io mi sento di fare, a nome della Commissione, se mi viene permesso, la proposta alla Giunta di verificare se mai se riuscite, visto che la sentite anche voi questa esigenza, di mettere alle votazioni questo ammendamento, anche se Smeraldi è d'accordo, di farci una proposta magari dove ci possono essere almeno il discorso del tempo, visto che è un tema sentito. io se leggo le altre due da quello che mi sembra di capire, il Dottor Smeraldi ha inserito la legge regionale che è di rango superiore quindi ha fatto delle puntualizzazioni, mi sembra di aver capito così, quindi non è un cambiamento sostanziale ma sono precisazioni che forse sarebbero anche corrette introdurle, dare a voi la possibilità di valutarlo, visto che poi avete anche una funzione anche politica, se mai al posto di fare la votazione sì sì, al posto di fare la valutazione no, però visto che stiamo valutando c'è la convenzione che di vostra noi vi dovremmo dare l'indirizzo, al posto di fare la votazione stavo pensando se magari fosse possibile ritrovarci con le opportune modifiche visto che mi sembra che siano già nelle vostre corde. generoli non ho capito dobbiamo fare un'altra commissione oppure è una palla che è tornata in giunta allora io ho questo ho questo ammendamento che secondo me è accoglibile quindi o andiamo in votazione con tutto ciò che ne comporta oppure anche per un rispetto istituzionale chiedevo visto che vi vedo vedo che siete d'accordo se volevate valutare di provarci a lavorare voi e ripresentarlo accogliendo quello che è in questo documento. per essere chiari noi come giunta come sindaci ci troviamo tutti i giovedì quindi già giovedì prossimo noi possiamo assolutamente affrontare questo tema per capire bene però il mandato che ci viene dato è di tornare con una proposta o di decidere o di decidere perché torno a dire quello che ho detto prima che è veramente per noi molto importante abbiamo dei tempi piuttosto stretti quindi se decidiamo e salta fuori che sono dieci e magari nei consigli comunali si preferisce cinque e si vota un emendamento alla convenzione del consiglio comunale di cinque tutti dobbiamo tornare nei consigli è un disastro quindi torniamo in commissione sì sì no dico ma se la giunta giovedì decidesse di metterne dieci cinque quello che deciderà non è che poi nei singoli consigli comunali arriva l'emendamento del consigliere che dice e viene votato per cui il testo proposto a quel punto dalla giunta viene modificato e dobbiamo tutti tornare in consiglio era questa la mia preoccupazione se appunto era questa cioè lo rimetto per essere chiari perché non nascano dei fraintendimenti successivamente ecco lo metto all'attenzione della commissione io credo parlando anche per gli altri sindaci che noi siamo da uova e da latte insomma se c'è da tornare in commissione ci torniamo non è questo il problema era per essere per capire per me la sicurezza non c'è perché alla fine poi dopo torno nei comuni però il fatto che ne stiamo discutendo e non vedo nessun consigliere che che è contrario non so possiamo anche valutare se siamo tutti d'accordo sulla proposta di sulla proposta che ha fatto il consigliere Sberaldi di ha già introdotto una durata di dieci anni la sicurezza che non venga ridiscussa nei consigli non c'è ma non c'è neanche così anzi abbiamo la sicurezza che chiesta campana allora intanto si aspettavo che finisse intanto buonasera a tutti allora è vero il ragionamento che fate entrambi nel senso che la certezza che non si che non ritornino ai consigli non ce l'abbiamo però è anche ovvio che siamo tutti qui quindi tutte le le commissioni in dei vari territori ci sono sta in questo momento a decidere se vogliamo dare mandato alla giunta di coordinarsi e dare una linea politica di un certo tipo al consiglio oppure lasciare ai consiglieri la volontà politica di decidere se accogliere quindi l'emendamento del consigliere Smeraldi e quindi fissare una data a dieci anni oppure non accoglierlo ed eventualmente presentarne altri a seconda insomma delle linee politiche che ci vogliamo dare però io non me la sentirei di dare alla giunta il compito di decidere lei perché se no è chiaro ed evidente che il problema di dover ritornare nei consigli diventa poi maggiore siamo qui questo è lo strumento per confrontarci cerchiamo di capire se votarla o aspettare la prossima volta e capire la linea politica che dà la giunta a mio avviso ci sono tutte le cose